Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare realmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Agenti in prova del 225esimo corso, lo giurate voi? Lo giuro! Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.